Tu che dici, l'abbiamo? No, è meglio bussare prima. Adam! Barbie! Che schifo! Così bisogna baciarle. Dimmi un po', amico, il vostro rapporto è solido oppure me la dà se ci provo. Scusi, un momento. Sicuro? Ho oltrepassato i limiti? Ditemelo se è così. Sapete cos'è veramente bello? Che mi abbiate chiamato. Non eravate obbligati, ma lo avete fatto. Vi meritate un bacio. Vieni qua. No, no! Ehi, la smetta, per favore! Dai! Ok, parliamo d'affari. Ce l'avevo un biglietto da visita, ma chissà dove è finito. Chi devo ammazzare? Me lo tieni un attimo, scusa. Che schifo! Eccolo, l'ho trovato. Lei ha frainteso, non deve uccidere nessuno. Una possessione. Un bel cambio di voce fa sempre il suo effetto con gli amici. No, noi vogliamo solo scacciare delle persone dalla nostra casa. Ah, certo, capisco. Ora capisco. Beh, sentite, per una cosa del genere devo conoscervi meglio, stare a contatto con voi, trasferirmi da voi per un po', diventare più intimi. Capisci che intendo? Me li conservo tutti gli scattarri. Mia moglie e io vorremmo chiederle una cosa. Ah, sì, certo, 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 procede. Ecco, per esempio, quali sono le sue referenze? Ah, beh, mi diletto di stregoneria. Laureato all'Harvard Business School, ho viaggiato in lungo e in largo, ho avuto la peste bubonica e questo è stato il periodo più sereno della mia esistenza. Ho visto l'esorcista 170 volte e mi sganascio dalle risate tutte le porche volte che me lo vado a rivedere per non parlare del fatto che anche se stramorto sono ancora qui. Allora che ve ne pare? Sono buone le referenze. Mi scusi, ma lei, ma lei sa spaventare? Ah, questo è quasi offensivo, chiedermi se so spaventare. Che ne dite di questo? Gustoso, eh? Vuole scusarci un minuto? Certo, sì, parlatene fra voi. Adam, andiamo via. Barbara, ti capisco, ma potrebbe esserci utile uno come lui. No, no, possiamo cavarcela da soli, basta essere un po' più deciso. Bello, bello, bello. Ehi, ehi, ehi! Mi scusi, di cosa? Di niente, noi due ce ne andiamo adesso. No, aspetta, ti prego, non ti arandare così. Su, avanti, amico, resta, non ti sono simpatico forse? Guarda qua, eh? Ci vestiamo nello stesso negozio, eh? Hermano, ecco, lo sapevo. Bello, bello. Ehi, sentite, noi siamo come tre gocce d'acqua. Voi volete che qualcuno sia cacciato da quella casa? Io voglio che qualcuno sia cacciato da quella casa. Quindi, guardate, siete stati su Saturno? Io sì, ci sono già stato. I vermi delle sappie. Voi li odiate, giusto? Anch'io li odio a morte. Andiamo, ragazzi, che altro devo fare per stringere un accordo con voi, eh? Non vi dà fastidio? Vieni, andiamo via. Fermi, aspettate. Parliamone con calma dentro. Avanti, entrate, accomodatevi. C'è un po' di confusione, non fateci caso. Ehi, un secondo. Adam, dobbiamo uscire di qui. Sì, hai ragione, ma lui non ce lo permette. Casa, casa, casa! Come diavolo hai fatto? Vi piace la cucina italiana? Dove siete? Ehi, dai ragazzi, venite fuori. Ehi, andiamo. Stavamo parlando di lavoro, mi sembra. Cercavo di concludere un affare. Che volete che faccia? Dove siete? Incapaci, direttanti da quattro spiriti! Esigo rispetto, io sono un professionista! Al diavolo questa merda di plastica!